Praticamente mi è successa questa aggressione da parte di queste persone albanesi, ci hanno sorpassato in macchina, hanno colpito la safety car che sta dietro con una bottiglietta d'acqua in faccia e poi a seguire la bottiglia in faccia, l'autista è scesa, ha preso un pugno in faccia, io sono andato in aiuto essendo a distanza dell'auto per aiutare quest'autista, mi sono preso un pugno in faccia, dopodiché è arrivato il secondo aggressore e mi hanno steso. Mio padre è arrivato dietro e scivolato anche lui, io ero agonizzante, hanno massacrato lui, ci siamo alzati e abbiamo cercato di reagire sulla faccenda. Ci sono stati 3 o 4 momenti di collutazione e abbiamo cercato di reagire anche noi con dei pugni, perché in quel caso lì era questione di vita o di morte, ma quello che vorrei dire io, al grande pubblico ho detto tutti non ce la dovete avere con gli stranieri, con gli albanesi, perché il mio messaggio è questo ragazzi, potevano essere italiane, potevano essere tutti, ok, tante volte capita che sono più persone di quella razza che creano questo disagio, ma io non ce l'ho neanche con loro, il mio problema è l'occhio, l'occhio è il mio pavimento oculare che è crollato e rischio la mia carriera, lunedì vero operato è una cosa molto grave, avvocati, PM e tutto quello che è, io voglio che loro ammettono le loro colpe, che loro sono stati gli aggressori, non è una rissa, io non ho fatto una rissa, ho difeso una persona che stava per essere massacrata, ovvero l'autista che ci seguiva, ci siamo essi di mezzo, mio padre ha preso delle gran botte per me, non me ne frega né di referti, non me ne frega di niente, quello che voglio è che loro chiedano scusa e facciano da vigile altre persone che possono creare casini del genere, perché solo così si può migliorare, io lunedì mi opero, mi opererò all'occhio e spero che l'esito sia positivo e vorrei vederli là davanti, allora ci può essere una trattativa, perché avvocati, dottori e tutto è PM, sentando pazzi, questo è un messaggio mio che voglio lanciare, io lunedì mi opero a San Martino di Genova e vorrei vedere gli aggressori che vengono lì e ammettono le loro colpe, allora lì si può risolvere tutto, se invece vogliono andare avanti, che si va avanti, ma io non sono un aggressore, sono stato massacrato di botte sia io e mio padre facendo sport, facendo il ciclista e non il ciclista che sta in 10 o 20 in mezzo alla strada, eravamo in 4 e alla fine dell'aggressione era un ciclista e il padre che stava dietro, dove andava ai 50 all'ora e il ciclista stava andando ai 50 all'ora e lì passano macchine ai 150 all'ora, dunque il mio appello è lunedì, io mi opero, se volete fare un gesto venite lì e tratteremo.